buongiorno amici e benvenuti anche in questa nuova giornata oggi per me è il 7 aprile questi sono i cassoni vedete che belli sono ho trovato della corteccia il son 100 litri per la casa è stata dura cominciano i trattori e le ruspe che scavano il bosco guardate cosa ho fatto qui ho già rivestito con del sacco sotto che poi magari andrò anche a bucare in modo che non si che non si sia ristagno d'acqua però che comunque contenga la terra sono andato a comprare questo piccolo tunnel diciamo prefatto costa 8 pound 8 euro 9 euro e questi sono attualmente sono tre sacchi di terra però dovrò andarne a prendere altri perché vedo che non mi basta almeno ce ne vuole un altro o uno barra due perché poi quando dai acqua la terra anche scende si allarga se ne vogliono circa 5 per cassone oggi vorrei andare a chiedere al brico che ho qua vicino che si chiama B&M tra l'altro ho pagato pochissimo le cose mi sono trovato molto bene hanno anche un po di alimentari però hanno degli ottimi prezzi per quanto riguarda il giardino volevo chiedere se mi fanno la cortesia di farmi la consegna a domicilio se prendo magari 15 sacchi di terra stamattina c'era il gelo qui era tutto completamente gelato tutto bianco anche la mia macchina fuori era completamente congelata adesso devo accendere anche la macchina di anna perché sennò le batterie sapete bene che se le macchine stanno ferme costa meno un po di benzina che non fa cambiare la batteria tanto vale ogni tanto accenderla sto andando a fare il pieno alla smart perché è piuttosto secca e anche perché deve fare un po di giri perché chiaramente se la tieni ferma una macchina si scarica la batteria e allora ho deciso di andare a fare il pieno sia la macchina più a queste due tanniche qui perché perché in questo momento la benzina costa veramente poco avrei anche una tannica gigante che è fatta apposta anche per i liquidi così per la benzina tutte queste cose qua portate a casa da lavoro ma non me la sento di infierire così tanto perché sono 50 litri mi sembra quindi un altro serbatoio oggi andiamo via in smart sono arrivato in questa catena B&M home store qui hanno veramente prezzi ottimi per quanto riguarda il giardino però si hanno anche alimentari si la qualità è quella che è insomma ecco comunque hanno tutti i guanti vedo poche mascherine in giro adesso invece mi bardo e sento se mi fanno questa consegna a casa almeno della terra perché non so pre dove metterla questo è il baule è veramente bella la smart però troppo comoda ed eccomi qua ragazzi sono appena tornato e loro non fanno consegne mi sono tolto i guanti ho sanificato chiaramente la macchina e anche per rispetto ho messo la mascherina giustamente ho chiesto in casa se mi potevano consegnare 15 sacchi di terra che aveva un prezzo veramente basso quella buona perché costava 9 pound di due sacchi cioè 4,50 all'uno tornerò con l'altra macchina con la set per caricare il resto nel frattempo vedete come si infilano le mascherine ad incrozzo non va bene la barba ragazzi perché non fa completamente aderenza sulla pelle quindi non bisognerebbe aver la barba ma piace un sacco la barba per questo momento la sto tenendo eccoci ritornati a casa amici guanti usati qui ragazzi ho fatto il pieno della benzina e ho fatto bene perché perché l'ho pagata soltanto un pound 07 nulla abbiamo fatto bene a fare il pieno qua e le britanniche avessi un tir ne comprerei un tir perché quando sarà il momento che riapre e riparte tutto chiaramente costa di più e adesso invece torniamo a comprare la terra perché non fanno le consegne e io però ne ho bisogno perché ho i cassoni aperti vorrei chiuderle e piantare le nuove piantine nel frattempo vi faccio vedere che la set l'ho trasformata in furgone abbattendo i sedili almeno qua ci stanno spero almeno 10 sacchi di terra 10 12 sacchi di terra poverina andrà giù però almeno posso lavorare e il prezzo tra l'altro era anche ottimo e nel garden non c'era gente quindi io direttamente lì adesso purtroppo l'ora sarà cambiata quindi sarà un po più pieno di gente però vabbè tra l'altro voglio vedere se trovo anche una pianta di frutta perché a lana piacerebbe avere i lamponi partiamo l'avventura con quest'auto qui come potete notare ragazzi è cominciata la fila esattamente dietro alle mie spalle hanno bloccato ingressi chiaramente giustamente e quindi a me francamente non vado di fare la coda preferisco alzarmi domani mattina presto e ripartire oggi mi dedico a fare qualcos'altro magari i video o qualcos'altro in casa ne ho sempre da fare e eccomi a casa ragazzi non valeva veramente la pena fare la fila per andare a comprare i sacchi di terra non penso che domani mattina c'è stata una consegna proprio ieri quindi non penso proprio che svuoteranno il supermercato quindi domani mattina mi alzo presto so dove andare direttamente non ho neanche infilato mascherina e guanti perché sono rimasto in macchina ragazzi andiamo a vedere la macchina che ha un bel assetto in questo momento è abbastanza bassa andiamo a vedere cosa ho comprato di bello guardate quanta terra impressionante ci sono 12 sacchi da 50 litri poi ne ho trovato addirittura due che erano in offerta sempre lo stesso prezzo di pomodori da 52 litri questa è una terra un po più adatta al pomodoro comunque dopo faremo lo svuota la spesa come si suol dire lo svuota la macchina a sto punto questa cosa era necessaria perché dopo non voglio più muovermi spesi sti soldi qua tanto in vacanza non ci andiamo soldi da parte ne avevo quindi ed era già uno dei miei programmi perché se contate che poi appunto abbiamo dei frutti dalla produzione che facciamo non è male ragazzi andiamo a svuotare questa bella spesa e dopo noi ci vediamo direttamente in giardino che continuiamo con questa avventura iscriviti al canale tutto ciò era in macchina ragazzi perfetta roba questi sono due carrelli di merce più che altro per i volumi e poi c'era una cassa d'acqua che chiaramente ho lasciato dentro in casa quello che vedete sono circa 120 pound ho speso questi erano in offerta questi qui sapete che li compro sempre a 2 a 2 perché conviene li ho pagati 450 tutti questo qua che costava quasi sei anche questi di 2 a 9 pound è perfetto per pomodori e poi questo qui sempre da 50 litri che è il misto lo stesso che ho messo giù nel primo cassone ho comprato finalmente che li cercavamo da un po' queste tre piantine qui 3 a 5 pound costavano 2,50 luna qui abbiamo la salvia qui abbiamo il timo che io adoro ha un profumo e qui abbiamo il rosmarino ho preso lo spruzzatore perché questo qua intanto è eccezionale soprattutto per le sementi per i semenzai questa volta non mi sbaglio ed è a pressione e così fa in modo anche che la terra non sia troppo inzuppata quindi io preferisco fare l'effetto come fanno nelle serre si fa così e si fa si nebulizza qua ho preso queste che finalmente le ho trovate a un buon prezzo anche queste qua di 4 a 10 questi sono lamponi di vari tipi abbiamo il medana abbiamo il tulamine e l'autun bliss questa è un'altra cosa invece questo è le honey berry tie berry questo qui e il raspberry abbiamo due tipi di lamponi guardate che roba Anna impazzisce di questi qua siccome fanno una specie di rovo allora questi tre li lascio da soli quello che nasce nasce questo invece vorrei separarlo perché ha la foglia vedete morbida questo non ce le ha in teoria le spine quando cresce mentre questi qua si e poi un'altra cosa che ho preso anzi guardate fil di ferro fil di ferro che è sempre utile è ottimo per legare i bambù ho preso queste clip per le piante anche queste ottime questo è già il secondo o terzo che compro ma è sempre utilissimo vedrete quando crescono le piante queste sono ideali questi mi servono per i cassoni e non si sono mai le viti non sono mai abbastanza e la rete mi serve comunque anche per le piante questo è stato un altro bel po di investimento il bambù eccoli qua costano di i 10 questi sono alti un metro e 90 e costano 1,80 io parlo sempre in pound ragazzi ma costano 1,80 e non mi hanno venduto il pacco intero io volevo il pacco intero però vabbè pazienza sono a posto perché perché intanto è un prodotto che è naturale è molto forte avete già visto il mio recinto in fondo quanto è a resistenza ed è ottimo per legare le piante o per fare coperture per esempio se io utilizzo dei cellophones così potrei farmi da delle piccole sare lo stesso e anche perché li utilizzerò per creare una struttura sempre per i miei lamponi che poi non vorrei che diventassero proprio dei rovi proprio dei boschi ma vorrei farli salire e creare proprio delle strutture questo qua è stato una svuota la macchina più che la borsa della spesa un po particolare i nostri uccellini hanno mangiato vediamo qui ecco l'anacletto lui intanto arriva i uccellini piccoli vengono qua anacletto lui va qui che ha già finito tutto il suo papo anche lì gliene metto anche lì perché a volte fa fatica andare lì e devo anche cambiargli l'acqua vedete c'è acqua questa qui era mezza morta e speriamo si riprenda dai comunque questa qui è un'altra lavanda quella invece sta venendo veramente bene questa qui chissà che poi faccia tutto un buon profumo adesso dovrò scegliere delle posizioni anche per il rosmarino facciamo una sola anche quelli allora questa no la zona qui non posso toccarla sapete perché perché questa qui poi cresce diventerà enorme diventa grande così qua c'è un conflitto purtroppo tra piante lì sotto c'era un'altra pianta che ho dovuto tagliare molto corta perché disturbava quella e qua ci sono è pieno di farfalle vedrete in prossimi video quando questa pianta qui diventerà questa pianta si chiama butleia e sono diversi colori ne ho due una questa è più alta e quella un po' più bassa ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciatemi un like iscrivetevi al canale chiaramente noi ci vediamo nel prossimo video seguitemi su instagram se volete vedere qualche novità e noi ci vediamo nella prossima puntata prima però ragazzi vi voglio fare un regalo andiamo un attimo in serra oh che caldo guardate che meraviglia ragazzi vedete la serra come risponde? ho aggiunto questo scaffalino qui qua metterò gli cementali qui sopra così peseranno meno e avrò più spazio e poi potrò aprire questi due scaffali e ottengo spazio in altezza che a me va benissimo in caso ci possono mettere pomodori o altre cose no? andiamo a vedere cosa è successo guardate la magia dell'insalata sarà così poi l'insalatina guardate che bella basilico questo si può dividere e ottenere altre piantine per talea adesso lo lascio lì asciugare un po' perché stanotte ha bevuto l'acqua fresca passiamo alla magia spinaci i primi due spinaci nati si sta muovendo qualcos'altro vedo laggiù forse è troppo piccolo perché voi lo rinviate ma ho visto una testolina eccolo lì un altro spinaci la potenza della natura è bellissima sono quelli piccoli da taglio che a me vanno bene uniti con l'insalata con questa e l'ollo rosso avete già la vostra insalatina potete tranquillamente partire qua invece i pomodori ragazzi questi qui poverini mi sa che non ci siamo mentre le coste sono molto belle guardate questi pomodori che meraviglia questi sono pronti non vedo l'ora di metterli nel cassone tra un po' abbiamo già le zucchine e qua abbiamo i fagiolini lì in fondo quelli da ci sono i pomodori vediamo se siamo capaci di fare la talea di questi qui ecco perché li abbiamo messi qua anzi sfruttiamo già questo nuovo questa nuova scaffalatura che ho creato delle cose leggere prevedremo è tutto in stand by cioè io non posso sapere cosa faccio invento giorno per giorno ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo nel prossimo video continuate a seguirmi lasciatemi un like se vi piacciono i nostri video un pollice in su aiuta tantissimo il canale e chiaramente se volete vi iscrivete o ci seguite su instagram che noi li mettiamo tutte le novità e avrete anche foto esclusive ok ci vediamo see you soon